In mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diretta via era smarrita. All'età di 35 anni Dante era entrato nel peccato, poi vedremo nei prossimi video quali peccati portano Dante nel peccato. Da quello che ci dice lui stesso nella sua Divina Comedia che inizia con nel mezzo del cammin di nostra vita vuol dire che Dante è all'età di 35 anni che la metà dell'età media degli uomini del suo periodo, gli uomini del suo periodo vivevano circa 70 anni. Dante alla metà di 70 anni, a 35 anni, si ritrova in una selva oscura. Ciao al prossimo video. A presto!